Musica Si è svolta questa mattina al Vomero la manifestazione promossa dall'assessorato all'istruzione intitolata La Buona Scuola che c'è già. Protagonisti gli alunni di oltre 30 scuole di Napoli e provincia che hanno mostrato le produzioni realizzate durante l'anno. L'iniziativa è stata aperta dal coro del 48esimo circolo didattico in Piazza Muzzi e si è tenuta presso il Cinema Vittoria dove sono stati esposti i lavori dei diversi istituti, molti dei quali premiati anche a livello territoriale e nazionale. La scuola di Napoli è una e va da Soccavo a Pianura, Barra, San Giovanni, a Forcella, al centro, al Vomero dove ci troviamo adesso. Ma soprattutto abbiamo sentito il bisogno come città di affermare che troppo poco si parla della scuola buona che già c'è. Cioè di quelle produzioni, di quei progetti, di quelle realtà che nascono durante l'anno nelle aule scolastiche e portate fuori da quelle aule ci insegnano moltissime cose sulla convivenza, la pace, la legalità, l'intercultura. Quindi oggi ben 40 scuole di Napoli, ma sono solo un esempio, mostreranno e si mostreranno l'un con l'altra i propri prodotti migliori. L'evento è stato organizzato per valorizzare l'istituzione scuola e l'importante ruolo educativo che svolge quotidianamente sui temi dell'intercultura, della convivenza civile, della pace, della legalità.